E' scatalizzato fortemente Ma è posteriore a quello E' posteriore a quello Sì Fredda l'acqua Ma sei un animale Era già un animale Hai girato? Sei mai girato? Qui? Sì Questo è tutto bastardo per girarsi Senza andare nella sabbia però No no Sì 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 Questa è la trazione integrale però Eh sì 300 cavalli Sì Se è davvero ABT 350 50-160 Ma non sei uscito al meglio delle tue possibilità C'era lui in mezzo alle palle Bello di sta macchina che puoi tirare fino alla morte Sembravi guidare una motocut Pazzesco No ma hai visto tirare così tanto in giro Harder Harder Quella è leggerissima Quella è tremenda La differenziale come lo senti Guarda che roba Che roba Che F*** Io di lei ero mai spesi Sì logged Sopra si è messa ai *** però eh Si è messo dentro a superarti E poi Dovevo tagliarla quella dai fammi questa bene che dobbiamo vedere quanto fai 130 140 la temperatura è giusta 84 fammi un giro giusto vai che te lo cronometro ma che cazzo cronometro vai tanto per fare cazzo ce ne frega non costa niente la madonna che sanera la madonna si salta bisogna essere più fermi però figa che bestia sei una bestia devi fare un giro giusto abbiamo un R5 furbo forse figa guarda 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 attento più sulla patente viene i condotti lato proprio in mezzo alle palle ah merda ma che bolla cattivo cazzo io vado molto più piano è la mia nuova non sei fuori vuoi dare così a devasto non ci arriva da 10 anni guarda non ci sarebbe arrivata comunque 10 anni tranquille lo fai che sega di guai questo qua che puzza questa bruciata mi sta saltando qualcosa mi sta saltando qualcosa o a te no no a lui il fumo bianco lo faceva a lui io ho l'olio nuovo nuovo intendo 1000 km e di quello gaillardo anche numero aveva in portiera 24 24 tutto 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 qua fraccetto ha sconto qualcosa allora qua ho l'olio ho l'olio ho l'olio ho l'olio che adesso è ormai Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info da l'impressione di impegnativa da guidare però io l'ho trovata quella su bagnato però è una capo 2.40 volumetrica tira parecchio ci va con le gomme da bagnato però perché su bagnato se non hai le gomme da bagnato con quella non vai stai tranquilli non ha senso non ha senso se lo sapevo non mettevo la felpa oh di la casa eh vabbè ormai tui ian S1, stia tui ian S1, stia ooo 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 il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e che pesa sta macchina? 2 100 kg di più dalla Selica sembra più pesante quando si no fai gli scherzi? quali? ero preparato che tra navi è bullato che carino sbagliare concentrati fanno il giro pulito fanno il maiale fanno il giro pulito no non è la caia non è la caia faremo uscire non scendo a spugia piano 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 che affondi piano che affondi si deve tirare fuori bisogna uscire giro pulito di Nicola vabbè che era finita ma ti borrono oh fermo ti borrono se basta che non mi facciano pagare la ghiaia ti fa pagare ferme no 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 che affondi basta non devi far così il meteo che hai tirato su tutto qua dice un mino uscita di pista Nicola ha colpito con questo mi riesco male a fare certi piccoli sono raggiunto qua giorni come me poi andiamo di non fare danni eh ecco che è sufficiente voglio che che è la pula che le ha già fatti Nicola i danni si girano tutti eh non capisco perché non c'è niente da girarsi ecco la pula da mano la pula dietro qui allora qua quello è una evora questo qua non è un squalo quello con la macchina grigia quello è una evora dobbiamo andare qua dentro? ahah ce li hai il tagliandino? ce li hai portata di mano malca troia per putta fuori tutti e due uno tienilo ma l'altro ti serve non c'è niente non c'è niente qui là